Mafia, voto di scambio, estorsione e droga. Scatta la retagante a 12 arresti, tra cui l'ex assessore regionale Sorbello. Su richiesta della procura del settuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siracusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 12 persone, 10 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, emesso dal GIP del Tribunale di Catania, diretta contro l'associazione di tipo anfioso denominata Clan Nardo, operante nell'area nord della provincia Redosea e ritenuta costola della famiglia di Cosa Nostra, catanese Santa Paola Ercolano. I carabinieri del nucleo investigativo di Siracusa al termine di una complessa attività di indagine iniziata nel mese di dicembre 2021 hanno fatto emergere un quadro indiziario a carico di 12 persone, gravemente indiziate di essere organizzatori e affiliati al Clan Nardo che avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva sono riuscite ad acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di numerose attività economiche e imprenditoriali prevalentemente nel settore agropastorale, nell'area nord della provincia siracusana. Scambio elettorale politico mafioso, estorsione, detenzione di armi e stupefacente, introduzione in carcere di dispositivi telefonici sono solo alcuni dei capi di imputazione contestati dagli indagati che anche dopo la recente operazione Agora portata a termine dai medesimi militari del comando provinciale di Siracusa si sono velocemente riorganizzati e l'operatività del Clan è ripresa con il solito modus operandi, minacciando anche dall'interno degli istituti di pena utilizzando illecitamente telefonini, chi si fosse rivolto alle forze dell'ordine per denunciare un'estruzione o una minaccia subita occultando armi ad alto potenziale offensivo, smerciando stupefacente del tipo cocaina e marioana addirittura gestendo una florida piantagione composto da ben 731 piante. Le armi, due fucile e una pistola e lo stupefacente a circa 11 kg tra marioana e cocaina sono state sequestrate dai carabinieri durante la fase investigativa. Nel dettaglio, l'attività di indagine condotta con metodologia tradizionale supportata da innovative strumentazioni tecniche ha consentito di delineare l'organigramma, ruoli e mansioni dell'Associazione Mafiosa del Clan Nardo ricostruire plurimi episodi di estorsione commesse dagli associati che, mediante minaccia e avvalenza della forza di intimidazione avrebbero costretto diversi imprenditori agricoli o esercenti commerciali a fornire somme di denaro o genere alimentare senza corrispettivo pagare un servizio di guardiania per i propri terreni agricoli sui quali sarebbero stati anche obbligati a tollerare il pascolo di capi di bestia ma ricondicibili dagli associati subire il cosiddetto cavallo di ritorno per la restituzione di escavatori e altri mezzi oggetto di furto. Di particolare rilevanza, infine, il reato di scambio elettorale politico-mafioso contestato anche all'ex sindaco di Melilli nonché ex assessore regionale Giuseppe Sorbello accusato dai carabinieri e dai magistrati della procura estetuale antimafia di Catania di aver accettato la promessa di ottenere voti in cambio di denaro e dell'impegno a operarsi per agevolare la scarcerazione del figlio di un affiliato a seguito delle elezioni a candidato a sindaco di Melilli nel 2022.